Cristiano Malgioglio in trattative con Netflix per un ruolo in Narcos 4 Cristiano Malgioglio a Narcos? Per il paroliere un ruolo da cattivo nella quarta stagione. Il grande fratello Vipa ha decisamente portato fortuna Cristiano Malgioglio. Da quando è uscito dalla casa più famosa dItalia il paroliere è acclamato e richiesto da ogni parte. Addirittura dallAmerica, dove è stato chiamato a sostenere un provino per Narcos, la famosa serie tv di Netflix. Come fa sapere il settimanale Spy nellultimo numero in edicola, il regista del telefilm avrebbe visto Malgioglio nel videoclip della sua canzone Mi sono innamorato di tuo marito e sarebbe rimasto totalmente ipnotizzato dalla presenza e dallo stile di Cristiano. Avrebbe dunque chiesto ai suoi collaboratori di cercarlo per sottoporlo ad un provino in vista dellinizio delle riprese della quarta stagione, disponibile nellautunno del 2018 sulla piattaforma digitale. Malgioglio partirà dopo Natale per Los Angeles, dove incontrerà regista e addetti ai lavori per un confronto. Riuscirà ad ottenere la parte?. Malgioglio ha già recitato nella sua lunga carriera. Per Cristiano Malgioglio la recitazione non è di certo un mondo inesplorato. In passato Cristiano ha interpretato dei piccoli ruoli nei film Nemici per la pelle e viva l'Italia. Non c'è due senza tre e la prossima sfida sarà quella di Narcos? Chissà e nel frattempo l'artista si è riconciliato con Raffaello Tonon. Archiviato il furioso litigio avvenuto durante la semifinale del Grande Fratello Vip, i due hanno fatto pace. Di più, hanno deciso di avere lo stesso agente per la gestione delle serate in discoteca. Cristiano e Raffaello, insieme a Giulia De Lellis, Jeremias Rodriguez, Luca Onestini, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sono infatti gli affini più richiesti dai locali di tutta Italia. .